Ciao, sono Mari Carini. Ciao, sono Leonardo Ozzilieri. Vuoi diventare un vero campione della battuta? Allora vienici a trovare all'Hitting Clinic, organizzato in collaborazione con Lusville Slacker. Lusville Slacker, insieme ai campioni della IBL. Che sveleranno i trucchi e i segreti per diventare un vero asso della battuta. Passerai una giornata di divertimento e baseball. Non mancare, ti aspetto. Questa è una giornata di una squadra. Questa è una giornata di un'altezza di un'altezza di un'altezza di un'altezza. AlWhisville Slacker, insieme ai tabla di un'altezza di un'altezza di un'altezza di un'altezza di un'altezza.